Rallenta l'inflazione a febbraio. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi è stabile su base mensile e un aumento dello 0,4% su base annua. L'Istituto di Statistica spiega che la lieve decelerazione dell'inflazione è imputabile prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici non regolamentati e dei trasporti, andamenti che sono stati solo in parte compensati dall'accelerazione dei prezzi dei beni alimentari lavorati. Crescita della produzione ad un tasso anno del 3,5% fino al 2025 con la componente gas che a 2050 costituirà circa l'85% del totale. Sono alcuni degli obiettivi del piano strategico a lungo termine di Eni. Il target ha fissato di riduzione ad 1,5% delle emissioni assolute dell'80%. Nel 2019 l'utile netto per Eni è stato di 150 milioni di euro. Per l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, si tratta di risultati eccellenti nonostante lo scenario decisamente negativo. Ricerca e tecnologia insieme a industria e sostenibilità. Con particolare attenzione in giovani. L'iniziativa Innovare per Crescere, tenutasi nello stabilimento Leonardo di Pumigliano d'Arco, è stata l'occasione per promuovere un dibattito aperto e per un'analisi sul tema alla presenza di rappresentanti di primo piano delle istituzioni. Una occasione anche per inaugurare l'Aeroteca Campus, un centro d'eccellenza sui programmi di ricerca innovativi ad alta tecnologia nei settori aereo, spazio, difesa e sicurezza. Grazie alla collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, il centro ospiterà dal marzo al dicembre 2020 le attività dell'Aeroteca Academy, un percorso di alta formazione nel settore aerospaziale. Così l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo. Una presenza molto importante per il territorio campano ma anche per Leonardo perché qua a Pumigliano diamo un'iniziativa insieme all'Università Federico II per fare formazione nei nostri stabilimenti di alta formazione per 30 ragazzi che avranno come docenti dei professori universitari ma anche dei nostri colleghi e che diventeranno degli specialisti su tematiche innovative nel campo dell'aerostruttura e dell'aerospazio. Dalla metropolitana M4 di Milano alle linee ad alta velocità Napoli, Bari e Palermo-Catania, dai lavori della nuova sede dell'ENI a Milano a quelli della linea ferrovaria del Brennero e del terzo valico dei Giovi in Liguria. La paura per la diffusione del coronavirus non ferma in tutta Italia i lavori nei cantieri del gruppo Salini in pregiro. Salini in pregiro non si ferma, è l'hashtag cognato in occasione dell'epidemia da coronavirus. A Milano i lavori nei 51 cantieri della M4 che vede all'opera Salini in pregiro e Astaldi vanno avanti a pieno ritmo nel rispetto di tutte le precauzioni e delle misure di sicurezza per i lavoratori, fa sapere la società. Grazie. Grazie.